L'azione sinergica per il sociale dell'Avis comunale Città di Agropoli, del Rotary Club e dei Lions Club di Agropoli non si ferma. Sabato 18 dicembre in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle ore 19 si terrà una giornata di screening gratuito dedicato alle visite diabetologiche. È obbligatorio l'uso della mascherina e del Green Pass per accedere allo screening, inoltre è necessario presentarsi alle visite con almeno due ore di digiuno. Contemporaneamente sarà possibile effettuare la propria donazione di sangue presso l'automoteca dell'Avis di Agropoli che sarà presente sempre in piazza Vittorio Veneto. Diversi appuntamenti Presidente sono previsti per il mese di dicembre, vogliamo invitare i telespettatori di Cilento Channel a seguire questi eventi importanti nella città di Agropoli e non solo. Allora noi per il mese di dicembre, come è noto, raccogliamo il lunedì, il giovedì, la prima e la terza domenica nella nostra sede e poi siamo in gira con l'automoteca. Ad Agropoli abbiamo una bellissima giornata importante, domenica 18, perché oltre a fare le premiazioni ai donatori che meritano il riconoscimento, lo facciamo presso l'aula consigliare, tutta la giornata poi è dedicata alla prevenzione diabetologica e siamo in piazza dalle 9 per tutta la giornata, poi uno stacco per il pranzo. È importante perché abbiamo una dottoressa con tutta la sua equip, staff, e faranno questa bella giornata di prevenzione. La stessa sarà ripetuta a febbraio a Capaccio e poi andremo anche ad Albanella. Qui abbiamo programmato queste tre giornate di prevenzione per il diabete. Tutto gratuito, gli sarà poi rilasciato l'attestato, quello che ne viene fuori. Questa giornata è stata pensata e organizzata in primis dal dottore Melillo Ignazio, dei Rotary, in collaborazione con l'Avis e con i Lions. Per cui siamo un po' tutti quanti impegnati nel sociale e stiamo facendo questa bella... Ci auguriamo di riuscire ad organizzare le altre perché ce n'è bisogno. La gente presa da questo Covid molte volte si preoccupa del Covid e trascura magari altre cose non meno importanti. Grazie a tutti.